Salve bella gente, sono Gabby e bentornati su Ori Allora, quello che dovevamo fare, l'ho detto prima E andare a dare le buone notizie al Rospone Che abbiamo riattivato l'acqua, però adesso che abbiamo riattivato l'acqua chissà quante cose ci sono Sono aperte Soprattutto nell'intro, nell'intro c'è un sacco di acqua che rompeva, quindi direi andiamo a dare un'occhiata lì e andiamo a parlare con il Rospone Wow, acqua nuova, acqua nuova, aspetta, 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 mi sono dimenticato come si nuota Ah, tutto qui, sbloccato, sbloccato l'acqua possiamo fare ciacche-ciacche, evviva Allora, signor Gorlick, l'unico della sua specie ad avere tre occhi e, 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 sì, è tensing quello Progetti, possiamo fare 4-5, cavolo, avessimo due minerali in più Ok, io direi, situazione spinosa, innanzitutto togliamoci gli spini, perché fa un effetto molto migliore Leva, leva, ti fai male te, scusa Ma no, poverori Ora, tra due, tra due minerali facciamo anche le casette, ok, ciao Moki, che ci fai qua? Non posso saltare in alto come te Ma ho un grande entusiasmo Hai ragione, basta avere determinazione No, ho sbagliato gioco Non ci arrivo, mi dispiace, non ci arrivo neanch'io Andiamo un po', signor Rospo, arrivo Visto? Acqua esiste Bentornato, piccoletto Ho la voce da Rospo, ma non da Rospo Amici caduti, lì, buona, andiamo subito, andiamo subito Immediatamente, andiamo Ciao, ciao Ciao, ciao, andiamo Oh no Oh no Questi boschi non vogliono la tua presenza Ora appartengono a lei È la nuova curo È la nuova curo Io faccio capriole Ah, ho appena pulito le acque C'è l'acqua 2 e la vendetta qua Dai No, è bellissimo, è bellissimo Ok, ok, va bene Ah, siamo vicinissimi Siamo vicinissimi Come si chiamava? Salve Lei è buono, vero? Chi? Ah, un portatore della luce Quelli come te non sono benvenuti qui nel mio giardino Quando gli alberi avevano bisogno di te Non c'eri E adesso guarda Il mio giardino è praticamente morto Visto? Stop it Ti parli bene tu Non è neanche vero È celebrolesico questo Fattere da questo luogo morente Ecco Sì, perché da quel che ho capito Seguendo ori 1 Gli alberi funzionano con la luce, no? Ramo senza vita Esatto Dobbiamo tipo prendere un pezzetto di luce E metterlo qua dentro E questo albero Tornare in vita Quindi Quando questo albero Sarà in vita Tu mi darai una mano? Bella risposta Arrivo Minicuro Come si chiama sto? Ci siamo quasi Vedo Vedo i corvili Non abbiamo dato un nome? Non abbiamo dato un nome Arrivo Nei boschi regna un silenzio Cinereo E spettrale Ok Dove sei? Non dirmi che sei andato avanti Senza di me Ehi Dove sei? Salve No 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 Ah sì, ok Uh Quello zoom Mi fa Mi dava veramente Un bruttissimo presentimento Da domani sposi Eccolo là Appunto Pruttissimo presentimento Scappa 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 Caspita è È un gufo Con le stampelle Ti ha visto l'ala? Ok Lo chiamerò stampufo Che bello Yoshi Ho trovato Tipo di trovare la strada Verso casa Non ci credo mai Nella vita Che Troveremo la strada Verso casa Non mi ricordo Neanche voi Si faceva planare Questo No È bellissimo È bellissimo Au Foglie È il mio unico nemico Per generare La figa di Wow Geniale Ado Aiuto Wow Bellissimo Però questo è soltanto Un pezzo del gameplay Secondo me Perché poi Sono sicuro Come non so che cosa Che questo Piccione Andrà da qualche parte Giuro Ah salve Lei è cattivo Salve Chi? Che ci fai qui? Brilla forte spirito Quindi non devo far casino Ok ricevuto Ah ok Aspè 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 Avada cinabra Avada cinabra Avada cinabra Allora Allora Devo Non spiegarmi come Aspetta Proviamo così Venga qua Eh Ciao Voilà Sì Ah Scusa Vero So che non puoi volare Quando non c'è il Frrrr Ah salve Ah 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 No Ho giusto Ho giusto Il silenzio Il silenzio Dove devo andare Qua dentro Ah chi sei? Chi? La devi smettere Il silenzio? Sì Ha sussurrato Secondo me Il guffetto La guffetta Verrà rapita Da da quel Come l'abbiamo chiamato Gufella Gufostampella Tipo E il silenzio regnava Oh no Questo è il primo boss È stato un piacere Conoscerti Ah 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 Non l'ho visto Stavo guardando lo sfondo Stavo guardando la bellezza Dello sfondo Scusi Ori Se sei bello da vedere Sal È una zanzara Ma Mangia le zanzare Va bene Oh no Oh no È una stato millenaria Come osi romperla Io non sono stato Hai mangiato la zanzara Vero? Povera zanzara Beh no Stava sembrava irraggiungibile Ma scusa Allora Gufetto Per dire Noi Siamo arrivati da di lì Perché dobbiamo andare di qua? Scusi eh Ok che mangio la zanzare Lasciamolo mangiare le zanzare Un problema di meno per noi Andiamo di qua Ok andiamo di qua Oh Come È strecciosa Quella zanzara È di gomma È tipo Una goleador Piano eh Silenzio Si spaccherà qualcosa Di sicuro Occhio eh Via Ah Delusione I salti Please Impara a scalare Con quegli artiglietti Però Via Allora Sai volare Non sono stampelle Quelli sono ombrelloni Ehi Teletrasportiamoci via Dai Teletrasportiamoci Ah solo ori So teletrasportarsi Giusto Attenzione Siamo all'aria aperta Ora di volare via Ah la piuma Prendila Attaccala E vogliamo via Dai Troppo tardi ciccio Ciao Oh no Oh no Oh no Salve Gu Gufampella Non ti chiamo più così Ok No Eh vabbè E vabbè E vabbè E vabbè No Sei un po' tonta Però Sì 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 Ok Sì sì Brava brava Ci vediamo tra dieci ore di gioco Vola Spero rimanga bloccata lì per dieci ore Poi arrivo a salvarla tra dieci ore E sarà ancora in quella posizione tra dieci ore E potrò salvarla tra dieci ore L'avevo detto che Rimanevamo da soli di nuovo L'avevo detto Oh no La prossima volta Mi porto dello scotch E non hai notato Il coso gigante Che vi ha separati Andiamo che lo salviamo Dai No Non si è fermato Per dieci ore E siamo già due morti Nella serie Moki 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 Sapete applicare la tecnica della risurrezione Please Mi servirebbe molto 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 Sei serio Sei serio Aveva meno di un anno No 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 Adesso Salve Si rianima come Ori Sul primo Cosa Dammi un attimo Arrivo subito Arrivo Arrivo Moki Un attimo Che caspita Salve lei La voce della foresta Ha fatto il possibile Per lei Ma la sua luce È debole Non è morta Non è morta È debole La fine Salice La luce si spezzò Big Ben Oh no Dobbiamo prendere cinque pezzi Dobbiamo prendere cinque pezzi Adesso Vero Frammenti di luce Andarono persi Si sparpagliarono E si indebolirono Diventando dei fuochi fatui Noi ne abbiamo uno Eccoci qua Classicori Vai a prendere Questo 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 Eccola Recupera i fuochi fatui Per salvare La gufetta Bene Posto Obiettivo della vita Prendi questa ore Ti sarà utile Si Posso planare Come rendere ancora più difficile Toccare terra Su sto gioco simulator Oh no Wow Che Che fortuna Oh madò Wow Oh 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 Ok E adesso Wow 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 Aspetta è quello Ok mi ricordo Oh Ma dai Ah Uh uh Vuoi vedere che qua iniziamo a prendere l'abilità che ci fa andare nella sabbia Sì Piano 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 Non saltare Oh shit Vai Corri Bravo Eeeh Parte stealth Ok andiamo Oh shit Oh Oh mio dio Do Where 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 Gioco Dove mi fai andare Salve Ok Qua che bella sta tenda Wow Si va sempre vicino a me Ma che cavolo di orvo sei Au Au Non farlo mai più Sto bene Sono solo morto dallo stress Oh porca macca sta arrivando Teletrasporto 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 No 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 Spesso c'è Mit'energia Deserti ventosi Nome più banale No però eh Scusa Aria ariosa Cioè Wow Wafaa 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 Bellissimo Quell'arma rimane sempre la mia preferita Wafaa Vado quante Quante forte sta arma Ancora ste rocce Ah ho capito cosa servono ste rocce Ok Se erano per dopo No 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 Gioco Ok che sono scarse Però no gioco 96 così velocemente No Aiuto Aiuto Tremors Tremors Ok buona Ok buona Hop Hop Madò bellissimo Sì ma no ma no È buono È buono Salve Gorlek Non avresti dell'acqua per caso La mia borraccia si è rotta in una caduta Wait Non avevamo già preso dell'acqua Te la porto subito eh Tu rimani qua E non morire Dove sarà l'albero Aspetta Occhio Occhio che è qua Eccolo qua Me lo ricordavo Niente Staparte l'ho già giocata sul Sulla demo Sapete Wow E indovina un po' Scavo Eccola là È utilissima Stabilità E chi ha giocato su Ricolors Saprà È la L'abilità trivella Ed è utilissima Opla Però senza limiti ovviamente E possiamo saltare fuori Va No vabbè Vabbè Sono dei geni quelli di Ori Sping Geni Uh uh Aspetta Va Va che bello Va che bello Tu Lupo Che non sei Noi dobbiamo arrivare fino a qua No anche su Anche sulla sabbia No vabbè Anche sulla sabbia che stavamo rompendo Non è vero Via 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 Ok Sono salvo Oh non sono salvo Posso anche uccidere i nemici così Autoscontri Sì Posso attaccarli così Oh ma do Ciao Bellissimo Facciamo sta sfida Voglio vedere che cos'è Au Pronto lo spirito Vediamo Mi ricordo a memoria la strada Assolutamente Ok proseguiamo Però Guere Dove Oh ma do Grazie Sono dimenticato che posso ancora calciare le cose Ci sono troppe cose su sto gioco E qui abbiamo Frammento di cielo di energia Grazie Ora ho metà energia in più Ecco sapete Forse l'unica cosa che non mi piace È lo scatto iniziale Quando entri nella sabbia Lì potrebbe fregarti un po' Più Più Au Wii Ah 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 Aiuto Ma sei ucciso quello lì? Salve Tocca Ma siete sempre i soliti tre personaggi Ehm È dell'acqua ciccio Dell'acqua Grazie No? Ok E vabbè Ma qua quanto lo faccio rimbalzare Non è molto stabile sto tavolo eh Aspè Wait Come facciamo? Così Oh Oh Secret Oh finalmente torniamo a dare calci Da quanto tempo eh Aspè Wait E mo? Non dirmi che devo fare veramente così eh Cavolo Ah Wow E ce la Fa Come No Hopla Vai Cos'era sta roba? Frenesia Novo frammento spirituale Sì va bene Tutto sta storia è per questo E adesso? Lo sapete che c'era la scorciatoia Per Per arrivare senza Per gli schiumi Ma niente Vabbè Hiya No Wow Wow Miracolo È questo come lo Aspè ho capito Oh mio dio Oh madò Oh madò Cosa mi chiede di fare sto gioco Posso fare così Poi così Poi con la Poi questo lo usiamo per fare così Poi quest'altra cosa lo facciamo così Come? Come? No Piano Piano Ce la posso fare Ce la posso fare Ho tutto il tempo del mondo Non ho tempo Ok buona Gorlek Salve Au Au Ma do quanto è infame Questa parte Minerali Gorlek Grazie Pam Dai Adesso il minerale Me lo dici Vai Ok credo Abbiamo raggiunto Abbiamo raggiunto La cima Siamo in cima Il cammino non si aprirà Finché il cuore Non saprà che è al sicuro Hai bisogno di 4 fuochi fatui Per aprire il cancello Aaaaaah È per questo che c'eravamo Teletrasportati all'inizio qua I pre fuochi fatui Aaaaaah Aaaaaah